ciao oggi si fa l'esercizio hamming della traccia erlang di exercizio e come sempre se faccio errori se notate errori o inesattezze segnalatemelo nei commenti allora ho già scaricato i file per cui leggiamo le istruzioni calcolare la distanza di hamming tra due filamenti di dna il tuo corpo è fatto di celle che contengono dna queste celle regolarmente si consumano e hanno bisogno di essere sostituite e questo viene fatto da loro stesse dividendosi in celle figlie infatti un corpo umano nella media a 10 quadrilioni di non riesco a tradurlo in italiano con con un'informazione non corretta se si si confrontano due filamenti di dna e si contano le differenze tra di loro possiamo vedere quanti errori sono sono successi questa conosciuta come la distanza di hamming almeno credo che hamming sia un cognome adesso perché scritto maiuscolo ma ok penso penso che sia un cognome leggiamo il dna usando le lettere c a g e t due filamenti potrebbero presentarsi in questa maniera questo è uno e questo è l'altro hanno sette differenze e quindi la distanza di hamming è 7 la distanza di hamming è utile per un sacco di cose nella scienza non solo per la biologia quindi è bene essere esserne familiari ecco in una conversazione anche possibile buttate lì una distanza di hamming non fa male note sull'implementazione la distanza di hamming è definita solo per sequenze di lunghezza uguale quindi ogni tentativo di calcolare di calcolarla tra sequenze di lunghezza differenti non dovrebbe funzionare ok mi viene in mente subito zip la funzione della libreria standard che serve a diciamo unire 22 sequenze in una e questo perché nell'ultimo annetto circa ho avuto a che fare con elixir per cui è una funzione che ho usato spesso ovviamente se non la conoscevate l'esercizio diventa più un po più complicato ma con zip è molto semplice comunque lo vediamo lo vediamo ok a sto punto io questo browser lo posso chiudere anzi potremmo potremmo in realtà aprire la documentazione per per la funzione zip perché so già che vorrò usarla no questo è il modulo zip dovrebbe essere il modulo lists sono sicuro che sono abbastanza sicuro che ci sia perché c'è in elixir e immagino che sia un'operazione abbastanza comune per cui ci sia anche anche qui list zippa due liste di lunghezza uguale in una lista di duple comunque si 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 prova si prova subito nella shell quindi list zip posso due liste 123 e gli atomi a b scusate c'ho il microfono nel mezzo abc ecco viene viene creata una sola lista di tuple prendendo gli elementi una volta da una una volta dall'altra lista ora io sono curioso di sapere che succede nel caso in cui le liste abbiano una dimensione diversa perché questo è un caso che dobbiamo gestire nell'esercizio ok quindi abbiamo abbiamo un errore un'eccezione va bene ok va bene via allora questo browser lasciamo l'aperto e mettiamo a tutto schermo il terminale apriamo l'esercizio ecco qua la nostra funzione con i due filamenti in ingresso allora prima cosa si facciamo appunto la la zip list strand 1 strand 2 facciamo facciamo finta che le lunghezze delle lunghezza delle due liste sia sempre uguale bene a questo punto possiamo fare una list comprehension si diciamo ti come abbreviativo di tupla e vogliamo filtrare dalla dalla lista zippata vogliamo ottenere solo quegli elementi che sono diversi tra il filamento 1 e il filamento 2 per cui possiamo fare così questa è una tupola ma la possiamo direttamente possiamo direttamente fare un pattern matching di pattern matching di qui gli diamo anche gli diamo anche un nome ti così qui è più più è più belleno possiamo scrivere t possiamo selezionare solo t quindi l'intera tupla e questa è la nostra condizione s1 diverso da s2 quindi stiamo filtrando dalla lista zippata solo quegli elementi solo diciamo le posizioni dove l'elemento della lista 1 e della lista 2 è diverso e a questo punto la lunghezza di questa di questa lista sarà sarà la il nostro il nostro risultato direi e ci manca solamente da gestire il caso in cui le due liste abbiano dimensione diverse per farlo possiamo usare una una guardia quindi a questa funzione quando length quando la lunghezza del primo filamento è diversa dalla lunghezza del secondo filamento deve tornare deve tornare bella domanda deve tornare per sapere cosa deve tornare conviene guardare nei test sinceramente conviene guardare nei test long different strand disallow the first strand longer sì esatto quindi questa è una sono due stringhe di diversa due liste di diversa lunghezza c'è una set match per cui la funzione deve tornare una direttamente una tupla che contiene error bad halk come atomi ok perfetto error bad halk questo dovrebbe far passare i test quindi entriamo nell'esercizio amming e proviamo a eseguire i test perfetto sono sono passati tutti e 9 a questo punto io però vorrei fare vorrei provare una cosa molto velocemente perché dato che l'ho studiato di recente che è il la gestione delle eccezioni dato che la funzione zip ritorna un'eccezione nel caso in cui le due liste abbiano una lunghezza diversa potremmo provare a usare a usare il tra i catch nel nostro caso per cui quello che voglio provare a fare se mi ricordo la sintassi allora questi li commentiamo allora cos'è che vogliamo provare a fare vogliamo provare a fare tutta questa cosa qui solo che la zip può alzare un'eccezione vogliamo catturarla e qui però ci manca il nome dell'eccezione io credo che con il l'underscore che con l'underscore si catturano tutti i tipi di errore e nel caso che ci sia un errore possiamo ritornare appunto error badike e penso sia finita così forse ci vuole land non credo ci voglio altra punteggiatura vediamo esatto è infatti di test passano lo stesso ora dato che noi siamo dei bravi bambini io vorrei qui mettere l'eccezione vera che viene viene alzata per cui vediamo se la documentazione ci è utile qui c'è per cercare exception exception exceptions ok penso di avere trovato la pagina della documentazione vediamo se alla intanto una cosa che mi farebbe sarebbe mi sarebbe molto utile rileggermi l'errore nella shell per cui allora si è detto list zip quando le liste hanno dimensione diversa exception error no function close matching ok 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 function no no matching function close is found ok potrebbe essere questo function close proviamo a rilanciare test eh sì era quello perfetto bene fantastico allora abbiamo visto due modi di implementare questo questo esercizio con le guardie o con un semplice try catch e niente quindi ci vediamo a al prossimo al prossimo esercizio ok 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 ok